Federico Esposito, Falevizze, Proxima MB che resta lontana ed è fuori corsa. Pervinca RL avanti a Porto Venere, poi all'esterno Plinio, quindi Plutone degli Dei e Pappo della Rio, più indietro, Proxima MB, Galoppa a Porto Venere. Pervinca RL continua avanti a Plinio, in terza posizione perché si gette, poi Pappo del Rio avanti a Plutone degli Dei. Di pronte, non tarda a progredire il favorito perché si gette e a metà del retegno di pronte assume l'iniziativa. 31,6 gli ultimi 400, 35,1 i 4,60 alla media. Di 16 abbondante perché si gette in vantaggio Pappo del Rio secondo all'esterno per Vincarrella e terza di dentro, poi in fuori Plutone degli Dei che però sbaglia e così in quarta. Quarta è il numero 7, Plinio, la squalifica per Plutone degli Dei perché si gette al comando a largo. Sempre Pappo del Rio lungo la corda segue per Vincarrella, tutto a spalle indietro Max Castaldo. 29,6 il secondo quarto perché si gette e comanda su Pappo del Rio che resta a largo. Poi per Vincarrella con in fuori Plinio, il quartetto in doppia fila indiana, lontana in segue Proxima MB. Penultima piegata perché si gette alla fronta avanti a Pappo del Rio, poi per Vincarrella e Plinio. 30,6 per questo quarto. 15,6 la media per i tre quarti di miglio completati in 1,35,3. All'avanguardia perché si getta, secondo i fuori Pappo del Rio, lungo la corda sempre per Vincarrella. 600 metri alla conclusione perché si getta e continua avanti a Pappo del Rio che non sembra poter migliorare. Al momento rimane a largo ma al suo interno c'è Pappo del Rio. Poi Plinio perché si getta in vantaggio. 29,5 per questo quarto perché si getta e Pappo nell'ordine. Il completamento della curva è ingresso in dirittura con perché si getta avanti a Pervin Carrell. Perché si getta a lunga su Pervin Carrell in terza posizione e Pappo del Rio al cui interno prova a migliorare Plinio. Perché si getta al comando e allora perché vince Pippo Cubellini? Perché si getta davanti a Pervin Carrell e in terza Pappo del Rio. E allora il principale sovrano getta, 9 corse, 8 vittorie, un piazzamento. Questa volta fa 14,6 sul doppio chilometro e quindi va a migliorare anche il proprio personale che sui 2.000 era di 16,8. 3 perché si getta, 4 per Pervin Carrell, 6 Pappo del Rio il passaggio al fraguardo. Il premio Massafra aspettando l'attrice. Quarte, quinte per la terza posizione può esserci però fotografia.